bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo brevissimo ma interessantissimo video io sono xuder e ragazzi chi è che non la vorrebbe questa chi è che non la vorrebbe ragazzi questa è la nuovissima il nuovissimo balletto boogie down che con la patch 5.3 ragazzi viene praticamente regalato ad ognuno di noi è vero ragazzi viene regalato ad ognuno di noi ma per averlo bisogna fare la tanto fatidica autenticazione a due fattori chiamata più comunemente tra parentesi 2 f a quindi la domanda che ci sorge è xuder o quale caspio faccio fare l'autenticazione a due fattori che io non sono neanche capace ad avere un fattore non c'è nessun problema innanzitutto vi dico ragazzi che cos'è l'autenticazione a due fattori meglio che almeno lo sappiate in poche parole ragazzi è una misura di sicurezza ulteriore che ci viene data direttamente da epic games e che ci serve per avere appunto una più difficoltà di accesso non approvato al nostro account il che vuol dire ci entriamo sempre e solo noi allora con l'autenticazione a due fattori ci viene dato un codice un codice numerico che noi dobbiamo inserire una volta adesso vi faccio vedere dove questo codice ragazzi ha una validità limitata cosa vuol dire vuol dire che se cancelleremo i cookie dal nostro browser accederemo a fortnite dal pc di un nostro amico per dire o da un altro pc non accediamo a fortnite per 30 giorni o la prima volta in cui ovviamente ci viene dato il codice di autenticazione questo codice poi si modificherà e dovremmo farne nuovamente richiesta epic games è una cosa immediata ce lo danno veramente subito passiamo ragazzi però alla cosa più interessante a quello che un po tutti vogliamo sapere che sia come faccio ad ottenere questo codice e prendermi la boogie down del codice non me ne frega niente voglio la boogie down facile facilissimo ragazzi andiamo sul sito di happy games molto semplicemente happy games.com da qui andiamo su fortnite ovviamente lo chiamo con il nostro account quindi clicchiamo sul nostro account in alto a destra sulla sezione account come vedete ragazzi appaiono una serie di aspetta che sposto la mia webcam così lo vedete meglio appaiono di qua una serie di elenchi noi dobbiamo andare su password e sicurezza ok una volta che andiamo su password e sicurezza scendiamo lui ci dice se vogliamo modificare la nostra password ovviamente inseriamo ma non dobbiamo guardarlo scendiamo ecco qua ragazzi autenticazione a due fattori eccola qui ragazzi allora l'autenticazione a due fattori può essere utilizzata per aiutarti a proteggere l'account qua ci dice che per farla dobbiamo utilizzare un app authenticator questo bottone qui che voi avete che adesso io ragazzi non posso cliccare perché l'ho già fatto voi lo potrete cliccare una volta che ha cliccate su attiva l'app authenticator vi si aprirà una pagina dove vi dice non me la ricordo facciamo che la disabilito che me ne frega clicchiamo su attiva l'app authenticator dobbiamo inserire il codice di sicurezza questo codice di sicurezza ragazzi ci viene mandato sulla a meno per me è stato mandato alla mail altrimenti possiamo fare scarica installa un app authenticator per il tuo telefono noi ci clicchiamo tranquillamente lui ci dice che le applicazioni che possiamo scaricare sono google authenticator last pass authenticator microsoft authenticator o autai ma io vi consiglio a questo punto se non vi dovesse arrivare via mail cosa che in realtà dovrebbe arrivarvi basta semplicemente utilizzare il qr code che cos'è il qr code è praticamente un link in poche parole se noi ragazzi come si dice andiamo sul play store e scriviamo qr lettore qr scarichiamo il primo lo installiamo e con il cellulare lui quando lo aprite apre una fotocamera con il cellulare ci mettiamo a fare una fotografia non a fare una fotografia ci mettiamo lì vicini con la fotocamera lui automaticamente fa una specie di foto vi manda ad una pagina dove c'è un codice quel codice va inserito qui una volta che il codice l'avete inserito per da che vi faccio vedere il qui dove eccoli una volta che il codice l'avete inserito lì cliccate su attiva e automaticamente avrete l'autenticazione a due fattori questo farà sì che una volta che voi poi tornerete su forte rilo chiudete forte ovviamente ritornate su fortnite avrete la possibilità di avere il boogie down io spero che questo video vi sia aiuta vi abbia aiutato a scaricare e ad ottenere la vostra emot personalizzata vi ringrazio per averlo guardato un bacione grande noi ci vediamo in live ciao ciao